Tutti i locali di via Madonna del Prato, via De Redi, via De Cenci e zone limitrofe senza corrente, per un tempo stimato di quasi due ore. Sono rimasti senza energia elettrica nel pieno della città del Natale. Senza posse, senza luce, quindi nelle strade del centro storico anche la luce naturale non ci aiuta e quindi dipendenti con le braccia incrociate, insomma un momento un po' triste. Due blackout nelle giornate di domenica 3 e venerdì 8 dicembre, nei giorni di maggiore affluenza turistica nel cuore del centro storico. In un periodo così importante come questo direi che è un po' un problema. Un'ora e mezzo senza luce che ha mandato in tilta anche le cucine dei locali all'ora di punta in via Redi, in via Madonna del Prato e in via San Francesco, circa 600 i coperti così sfumati. Immaginate tra i nostri clienti, clienti è una strada di tutti i ristoranti, che all'improvviso si sono dovuti alzare perché non c'era la luce. Il disagio maggiore l'hanno avuto gli avventori, nonché clienti, nonché turisti che tanto amiamo che vengano nella nostra città, che si sono ritrovati senza mangiare, con bambini piccoli e quant'altro. Gli esercenti della zona, una trentina di attività, hanno già scritto al sindaco Alessandro Ghinelli. Bisogna considerare che quando a una cosa gli si fa tanta pubblicità, la gente viene. E non puoi partire dal presupposto, pensavo ne venisse meno, no. Bisogna partire dal presupposto, pensavo ne venisse ancora di più. Una soluzione provvisoria al problema, dopo le segnalazioni dei blackout, sembra essere arrivata dalla società che gestisce la rete di media e bassa tensione, che ha già avviato le attività di ispezione tecnica per tutte le verifiche del caso. Noi paghiamo bollette salate, molto salate, e ognuno di noi ha propri kilowatt e non sono pochi, quindi se, come ci hanno detto, in via ufficiosa si sono attaccati tutti a una stessa centralina, è logico che poi dopo il disservizio succeda. Ristoratori e negozianti restano comunque preoccupati per il prossimo fine settimana, minacciando la serrata se la situazione dovesse ripetersi di nuovo. Dove essere accadere, io sono non pronta, prontissima, non alla serrata, solo noi, ma mi auguro che tutta la città risponda, perché non è solo una parte di attività che va in difficoltà. Andando in difficoltà noi, le altre attività hanno un sovraccarico, comunque essi stessi per dare un servizio che non sono in grado di dare. Grazie. 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 Grazie.